due incidenti stradali nel nisseno un morto il primo episodio nelle vicinanze di mazzarino il secondo a breve distanza dalla zona industriale di san cataldo calta nissetta interrogato il cinquantenne arrestato dopo l'incendio in un'abitazione di santa flavia le vie dei tesori nel fine settimana diverse visite in programma san cataldese sabato amichevole con il canicattì al valentino mazzola rinviata la partita fra nissa e oratorio sanciro e giorgio di marineo le altre squadre di eccellenza in campo per la seconda giornata una persona è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 117 bis calta girone piazza armerina nel tratto che attraversa la zona di mazzarino due veicoli si sono scontrati all'altezza del chilometro 63 sul posto sono intervenuti i carabinieri di calta girone un'ambulanza e anche un elicottero del 118 ma per l'automobilista non c'è stato nulla da fare sul posto anche i componenti del personale dell'anas per piazzare la segnaletica e deviare il traffico tra il chilometro 62 e il chilometro 64 un incidente con conseguenze meno gravi si è registrato all'altezza della zona industriale di san cataldo nella serata di giovedì due auto una 500 e una panda si sono scontrate nei pressi dell'air pub e quest'ultima vertura si è ribaltata con il conducente che ha riportato un trauma al viso come accertato dai medici dell'ospedale santelia di calta nissetta ma le sue condizioni non destano preoccupazioni al giudice che lo ha interrogato ha detto di avere appiccato il fuoco alla propria abitazione in quanto voleva cacciare da casa gli intrusi che sosteneva occupassero la sua casa in sintesi è quanto ha dichiarato il 50enne arrestato due sere fa dalla polizia con l'accusa di incendio doloso al seguito del rogo che ha distrutto l'abitazione di via cardinale d'usmet nel quartiere santa flavia l'indagato nel rispondere alla gip emanuela carrabotta ha dichiarato di soffrire di depressione di non mangiare da diversi giorni sostenendo che quando era al buio da solo in casa sentiva i rumori causati da persone che occupavano l'abitazione sporcavano e rompevano oggetti e che si nascondevano non appena accendeva le luci e allora per farli scappare ha piccato il fuoco in modo che il fumo causato dall'incendio li costringesse a uscire in base alla versione sostenuta dall'uomo l'avvocato difensore giuseppe da qui ha chiesto una perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere di volere dell'indagato oltre a sollecitare gli arresti ospedalieri in una struttura psichiatrica l'uomo ha anche sostenuto di essere attualmente in cura al dipartimento di salute mentale la pm simona russo ha chiesto l'applicazione della custodia cautelare in carcere l'uomo era stato arrestato dalla polizia la sera stessa dell'incendio dopo essere stato sorpreso con l'accendino in mano mentre vagava in via d'usmet subito dopo l'arrivo dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine ora si attende che la jeep carrabotta faccia conoscere la propria decisione è stato pubblicato sul sito della regione siciliana il bando per la concessione di un contributo per la rimozione di manufatti contenenti amianto il fine è quello di incentivare si legge nell'avviso pubblico dell'assessorato delle energie dei servizi di pubblica utilità dipartimento dell'acqua e dei rifiuti i privati cittadini alla rimozione successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinata a civile abitazione e relative pertinenze situate nel territorio della regione siciliana per la misura vengono messi a disposizione ben 10 milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie afferenti al programma di azione e coesione programma operativo complementare 2014 2020 della regione siciliana le eventuali economie si precisa ancora saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria delle stanze ammissibili altresì si potrà procedere ad eventuale scorrimento di graduatoria in caso di integrazione della dotazione finanziaria iniziale con apposito provvedimento dell'amministrazione regionale quest'ultima inoltre si riserva alla facoltà di aprire ulteriori finestre temporali rispetto ai termini indicati per permettere l'invio di nuove domande come nel caso in cui quelle ammesse il contributo non esauriscano la dotazione finanziaria disponibile le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso apposita piattaforma dalle ore 12 del 19 settembre 2022 alle ore 18 del 2 dicembre 2022 si tratta di un contributo a fondo perduto che potrà coprire fino all'80 per cento dei costi sostenuti all'interno degli interventi ammissibili che vengono specificati nel bando in ogni caso l'importo del contributo non potrà superare 5 mila euro per ciascuna unità immobiliare e relative pertinenze nel caso dei condomini il contributo massimo erogabile a ciascun condominio non può superare l'importo di 2.500 euro per unità immobiliare si precisa ancora nel documento comprensiva di eventuale relativa pertinenza nel limite massimo complessivo di 30 mila euro per condominio 17.550 questo è il numero dei nuovi casi in tutta italia di questi in sicilia 926 questi dati dell'incremento dei casi totali rispetto al giorno precedente secondo il bollettino dell'8 settembre sui casi covid 19 scaricabile dal sito tematico dedicato del ministero della salute in provincia invece si registrano 52 nuovi casi l'aspenissena attraverso l'ultimo aggiornamento relativo alle 24 ore precedenti parla di pazienti positivi al sars cov 2 tutti in isolamento domiciliare e per l'esattezza 14 di caltanissetta 11 di gela 5 di san cataldo 4 di niscemi 4 di riesi 3 di mussomeli 2 di butera 2 di mazzarino 2 di sera di falco 2 di sommatino 1 di delia 1 di milena 1 di santa caterina villarmosa 3 i pazienti di messi della degenza ordinaria 2 di gela 1 di niscemi 221 invece guariti da covid 19 così suddivisi 79 pazienti di gela 31 di caltanissetta 25 di niscemi 16 di san cataldo 14 di delia 10 di mussomeli 9 di butera 7 di sommatino 5 di valle lunga prata meno 4 di riesi 4 di campo franco 4 di sutera 3 di milena 3 di sera di falco 2 di santa caterina villarmosa villa armosa 2 di villalba 1 di buon pensiere 1 di marianopoli e 1 di mazzarino le vie dei tesori torna in città a partire da questo weekend tre fine settimana dedicati alla storia cultura arte anche natura sino al 25 settembre l'edizione di quest'anno della manifestazione abbraccia ben 15 siti a caltanissetta comprendendo anche due location san cataldesi e si realizzerà grazie anche al supporto del comune al lavoro di un gruppo di cittadini alice bifarella luigi garbato michele mendolia calella aurelia speziale pasquale tornatore e alla collaborazione di diverse realtà del territorio e non solo privati enti ed istituzioni già da questo sabato e domenica si potranno visitare dalle ore 10 alle 12 e 10 l'archivio del liceo rugero settimo con tutti i nomi celebri che nel passato hanno frequentato la scuola e la biblioteca comunale dalle ore 10 alle 12 e 30 e dalle 15 alle 17 e 30 la casa del mutilato la chiesa di santa maria delle grazie istituto maddalena calafato dalle 10 alle 12 e 40 e dalle 17 alle 19 e 40 la cripta della cattedrale dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17 e 30 l'ex palazzo delle poste dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 14 e 30 alle 15 e 50 il musea verna solo sabato dalle 10 alle 11 il palazzo del seminario vescovile il museo diocesano il museo sostavisiva dalle 10 alle 12 e 30 e dalle 16 alle 19 e 30 il sabato mentre fino alle 18 e 30 la domenica l'ottocentesca villa benintende sarisi dalle 10 alle 11 e 30 e dalle 15 alle 18 solo la mattina dalle 10 alle 12 e 15 il serbatoio dell'acqua di monte san giuliano e infine a san cataldo dalle 10 alle 11 e 30 e dalle 16 e 30 alle 18 la chiesa delle anime del purgatorio e cripta cimiteriale e la chiesa di santa lucia durante i tre weekend prediligendo sempre la prenotazione si prevedono anche delle esperienze tra degustazioni vulcanelli ed ex miniere e anche una passeggiata nel quartiere provvidenza numerosi giovani che verranno coinvolti nel progetto sono prossimi alla fine i lavori della posa del nuovo manto in erba sintetica allo stadio marco tomaselli di pian del lago una novità che riguarda anche il rugby oltre al calcio tanto che la stessa nissa rugby ha espresso soddisfazione per l'ormai prossima conclusione dei lavori e sulla stessa lunghezza d'onda si è espresso anche il presidente della federazione rugby sicilia gianni sarageno il quale ha affermato dopo un'attesa che in certi momenti è sembrata insostenibile finalmente lo stadio tomaselli si appresta a essere restituito alle società nissene un campo moderno accogliente e polivalente che tornerà a essere un punto di riferimento per il rugby e il calcio siciliano nazionale e internazionale e soprattutto un impianto a disposizione della città per tutte le attività che contraddistinguono la nissa rugby il progetto ha preso il via già nel 2017 aveva visto anche l'interessamento della stessa federazione rugby e della società della palla ovale nissena ora si attende che il manto venga completato e poi gli appassionati potranno finalmente assistere alle prime gare dei vari campionati la stessa nissa calcio a causa dei lavori attualmente sta disputando le gare d'inizio stagione del campionato di eccellenza a riesi in attesa del calendario del campionato dopo che il tarra ha respinto il ricorso del jarre le squadre del girone idi serie d affrontano l'ultima fase della preparazione in vista del debutto previsto il 18 settembre sarà un sabato di lavoro anche per la san cataldese che alle 15 e 30 allo stadio valentino mazzola di san cataldo sarà impegnata in un amichevole con il canicattì parigrado l'ingresso sarà libero si prevede una massiccia presenza di pubblico proveniente anche dal vicino centro agrigentino anche alla luce degli ottimi rapporti tra le due tifoserie per i verde amaranto sarà un'occasione importante per mettere a punto schemi e soluzioni tattiche dopo le due partite di coppa italia contro catania e paternò due gare che hanno evidenziato note positive e altre meno indicazioni utili a poco più di una settimana dall'inizio del campionato c'è attesa negli ambienti calcistici san cataldesi per il calendario del girone per conoscere la prima avversaria di un campionato che si preannuncia molto interessante la qualità e l'importanza delle piazze impegnate da catania a trapani da cireale a licata rappresentano certamente uno stimolo in più a far bene per la san cataldese che oggi è la massima espressione calcistica della provincia nissena nissa oratorio sanciro e giorgio di marineo prevista per domenica 11 settembre alle ore 15 è stata rinviata a mercoledì 21 settembre alle ore 16 la variazione è stata annunciata dalla lega sicula in un comunicato ufficiale nel quale si fa riferimento all'indisponibilità dello stadio marco tomaselli dove sono in corso i lavori di collocazione del manto sintetico e all'accordo tra le due società la prossima partita dei biancoscudati sarà dunque quella prevista il 18 settembre allo stadio esseneto di agrigento per un derby che si preannuncia attirato e combattuto dall'inizio alla fine da una parte una nissa desiderosa di conquistare i primi punti in campionato dall'altra un acragas che non nasconde le mire di promozione finale nissa e acragas sono impegnate peraltro anche in coppa italia entrambe le squadre hanno guadagnato l'accesso al secondo turno della competizione con don carlo misilmeri parmonval resuttana san lorenzo mazzarese sciacca taormina leonzio comiso rocca acquedolcese nuova igea siracusa palazzolo nonché le vincenti di leonforte enna e santa croce modica che si giocheranno giovedì 22 settembre il quadro completo delle partite in programma domenica per la seconda giornata del girone a di eccellenza cus palermo gela don carlo misilmeri mazzarese enna castellammare mazzara acragas resuttana san lorenzo profavara sciacca casteldaccia e leonfortese parmonval un saluto a ben ritrovati con le previsioni di terapimeteo nella giornata di venerdì la circolazione depressionaria che insiste sull'europa centrale coinvolge in parte anche l'italia continuando a provocare molta nuvolosità in transito al nord ma in parte anche al centro e nuovi piovaschi vediamo infatti nel dettaglio la mappa della nuvolosità che ci mostra come gli addensamenti interessano soprattutto il centro nord italia associati anche a precipitazioni a carattere sparso spesso a sfondo temporalesco vediamo quindi il tempo che ci aspetta sull'italia avremo una giornata che resta stabile ampiamente solleggiata all'estremo sud e sulle isole maggiori con clima anche particolarmente caldo e valori spesso al di sopra delle medie del periodo maggiore variabilità invece al centro nord con tempo a tratti instabile sulle regioni settentrionali con occasione frequente per piogge temporali specie sui settori montuosi ma a tratti anche sulle pianure e sulle aree interne del centro qui il clima resta un po più gradevole valori sono contenuti per tutti i dettagli consultate l'app di 3b meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno caltanissetta servizio diurno pantano via dom minzoni servizio notturno del corso corso vittorio emanuele i Grazie a tutti.